Una lettera al Ministro dell'Interno Matteo Salvini e alla Ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Buongiorno per rappresentare la grave condizione in cui versano i piccoli comuni del territorio provinciale aquilano, condizione condivisa anche dai comuni al di sotto di 3.000 abitanti in tutta Italia, a causa della carenza di organico di seguitari comunali che implica paralisi delle amministrazioni. Il Presidente della provincia Angelo Caruso, che è anche Presidente dell'UPA, l'Unione delle Provincie Abruzzesi si fa portavoce di tutti i comuni in lotta contro tanti problemi. Il caro pedaggio, la ricostruzione, il blocco dei trasferimenti statali, il blocco del turnover, la chiusura delle scuole. Quello esposto a Salvini e Buongiorno è un grido di allarme, ma anche una proposta realizzabile se ci fosse volontà politica in soli due mesi. L'istituzione, spiega Caruso, di una categoria onoraria di seguitari comunali da costituirsi con avvocati e commercialisti. Perché è così importante la figura del segretario comunale? Beh, è colui che presiede allo svolgimento delle attività degli organi collegiali, quindi giunta e consigli, quindi il cuore delle amministrazioni. E insomma, i segretari ancora in disponibilità sono pochissimi. Sono quelli che oggi le prefetture mandano di qua e di là a cercare di superare qualche emergenza. Ma i sindaci dei comuni piccoli nella quotidianità fanno appello alle istituzioni, anche io sono attinto quotidianamente da sollecitazioni di questo genere. Io penso che la soluzione proposta sia l'unica possibile. Non ci si venga a dire che con il concorso o con i concorsi questo problema si possa risolvere, perché non si potrà risolvere. Innanzitutto trattasi di corso-concorso, il che significa un periodo di selezione, un periodo di formazione. Parliamo della normalità di tre anni. Tra tre anni probabilmente i dei 150 posti che si vorrebbero coprire con il concorso siano sufficienti per coprire gli ulteriori pensionamenti che ci saranno stati in medio tempore. È probabile che questa situazione determini davvero una paralisi integrale delle amministrazioni. Io credo che si debba porre rimedi con una misura straordinaria. Poi con tutta la buona volontà si potrà tornare anche all'ordinario. Sono convinto e contento se si ripristilleranno gli organici in una maniera tradizionale. Ma per ora occorre una misura emergenziale. Parliamo eventualmente di costituire, come dicevo, un albo di figure onorari, ma figure che hanno nella dimestichezza della loro professione, parliamo di avvocati e commercialisti, la propensione a svolgere queste attività. Grazie. 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 Grazie.